Bisognerebbe stare da un'altra parte, senza nessuno intorno, amico mio. Quando mi viene di dirti quello che ti devo dire, stare bene, tipo sdraiati sull'erba, una cosa così, che uno non si deve più muovere con l'ombra degli alberi, allora ti direi, qua ci sto bene, qua è casa mia, mi sdraio e ti saluto. Ma qua, amico mio, è impossibile. Mai visto un posto dove ti lasciano in pace e ti saluto? Ti dobbiamo mandare via, ti dicono, vai là, tu vai là, vai là giù, tu vai là giù. Leva il culo da là, tu ti fai la valigia, quando lavoravo passavo il tempo a farmi la valigia. Il lavoro sta da un'altra parte, sempre da un'altra parte che te lo devi andare a cercare, non c'è il tempo per sdraiarsi, per lasciarsi andare, non c'è il tempo per spiegarsi e dire ti saluto. A calci in culo ti manderebbero via. Il lavoro sta là, sempre più là, lontano, lontano, sempre di più, fino a Nicaragua. Ti manderebbero senza problemi, ho visto che quelli di quei paesi là, li si possono prendere a calci in culo e li sbarcamo qua, c'è poco da parlare, c'è poco da dormire, da lasciarsi andare. Se vuoi lavorare ti devi spostare, allora se lasci fare noi, i stronzi di qua ci facciamo prendere a calci in culo fino a Nicaragua, i stronzi di là si fanno fregare e li sbarcamo qua. Ma è che puoi dire questa è casa mia e ti saluto, tanto che io quando lascio un posto ho sempre l'impressione che quello sarà a casa mia sempre di più di quello in cui vado a stare. Quando ti prendono a calci in culo di nuovo, tu te ne vai di nuovo, là dove te ne vai sarai sempre più straniero, così via, sarai sempre più straniero, sempre meno a casa tua. E quando ti prendono a calci in culo, tu te ne vai di nuovo. Quando ti giri a guardarti indietro, amico, è sempre, sempre il deserto. Ma fermiamoci una buona volta, diciamo, andate a fanculo, io non mi sposto più, voi mi dovete stare a sentire. Se ci sdraiamo una buona volta sull'erba e ci prendiamo tutto il tempo, che tu raccolti la tua storia, quelli venuti dal Nicaragua a un altro posto così, ti raccontano la loro, che ci diciamo che siamo tutti più o meno stranieri, ma che adesso basta, ci stiamo a sentire tranquilli tutto quello che ci dobbiamo dire. Allora si capisce, io l'ho capito che ne frega un cazzo di noi. Io mi sono fermato, ho ascoltato, mi sono detto, io non lavoro più, finché non me ne frega un cazzo di noi. A che serve che quello del Nicaragua vieni fino qua, che io vada a finire laggiù? Se da tutte le parti la stessa storia. Quando lavoravo ancora ho parlato a tutti i presi a calci in culo, venuti da non so dove, che sbarcano qua per trovare lavoro. Loro mi sono stati a sentire, io sono stato a sentire quelli del Nicaragua che mi spiegavano con me da loro. Laggiù c'è un vecchio generale che sta tutto il giorno e tutta la notte al bordo di una foresta. Gli portano da mangiare perché non si deve spostare, che spara su tutto quello che si muove. Gli portano in munizioni, quando non ce n'ha più. Mi parlavano di un generale con i suoi soldati che circondano la foresta. Tutto quello che si muove diventa un bersaglio. Tutto quello che compare al bordo della foresta. Tutto quello che notano che non c'ha lo stesso colore degli alberi che non si muove allo stesso modo. Io sono stato a sentire tutto questo, mi sono detto, da tutte le parti è la stessa cosa. Più mi faccio prendere a calci in culo, più sarò straniero. Loro finiscono qua, io finirò laggiù. Laggiù dove tutto quello che si muove sta nascosto nelle montagne, al bordo dei laggi, attorno alle foreste. Mi stoppia un generale con i suoi soldati. Attraversa le montagne, perquisisce il bordo dei laggi, circonda le foreste, spara su tutto quello che si muove, che lo sa lo stesso colore, il modo di muoversi, delle pietre, dell'acqua, degli alberi. Io ho ascoltato tutto questo, mi sono detto, io non mi muovo più. Se non c'è lavoro, non lavoro. Se il lavoro mi deve fare diventare matto, mi devono prendere a calci in culo. Io non lavoro più. Io voglio sdraiarmi una buona volta. Voglio spiegarmi, voglio l'erba. L'ombra degli alberi, voglio urlare. Voglio poter urlare, anche se poi mi sparano addosso. Guardate quello che fanno. Se non sei d'accordo, se apri la bocca, ti devi nascondere il fondo alla foresta. Ti abbattono i colpi dei mitri, se vedono che ti muovi, ma allora è meglio così. Almeno ti avrò detto quello che ti devo dire. Grazie a tutti.